Cosa è Sharknado? È un film che parla di squali. No, non è vero. Sharknado è una serie di film, il primo è uscito nel 2013, esattamente dieci anni fa, tenetelo a mente, e ne hanno fatto poi mi pare sei, dovrei saperlo perché li ho visti tutti, sì mi pare che siano sei. E cosa hanno di particolare questa serie di film? È che quando è uscito il primo Sharknado nel 2013 appunto, io immagino il meeting che hanno fatto per discutere se fare o meno questo film, queste persone hanno presentato l'idea, sì abbiamo l'idea di fare un film dove gli squali vengono presi dal mare e portati da un tornado a piovere sulla gente, gli squali, sì, finiscono dentro le piscine, finiscono dove c'è l'acqua e li mangiano e ammazzano tutti. Non sto spoilerando molto, anche perché di racconto non è che ce ne sia tanto, nel primo, negli altri poi seguenti ancora meno. Io non so come abbiano reagito i produttori, se abbiano pensato che fosse un'idea geniale oppure una di quelle idee così brutte da poi risultare belle. Sta di fatto che il primo Sharknado ha una qualche velleità di, non dico che vuole sembrare reale, che vuole verosimiglianza, ecco non mi veniva la parola, ha qualche così sentore di verosimiglianza che una persona se proprio 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 la tira, dice vabbè sì una cosa del genere potrebbe succedere. Già però verso il finale del primo film Sharknado, quello originale del 2013, si capisce che una cosa del genere non potrebbe mai, mai, mai succedere nel mondo. Poi man mano che si va avanti nel Sharknado 2, 3 eccetera, fino all'ultimo, che appunto mi pare sia il sesto, le cose diventano così inverosimili, così palesemente esagerate che c'è un, mi pare che nell'ultimo film ci sia un bambino, un neonato, che con una segha elettrica apre la pancia, mangiato dallo squalo scusate, mangiato dallo squalo e con una segha elettrica, il neonato, forse ancora non è nemmeno nato, sta nascendo, apre la pancia dello squalo ed esce fuori, cioè cose veramente che non stanno nel cielo all'interno. Ma perché vi sto parlando di Sharknado oggi? Perché appunto, ora che ricordo i dieci anni dall'uscita del primo Sharknado, Sharknado, ci sarà una riproposta del primo originale nei cinema, completamente rimasterizzato, con nuovi effetti sonori, effetti visivi mai visti prima, niente, quindi sarà di nuovo al cinema e sicuramente sarà una bella esperienza andare lì tutti insieme, gridare e ridere, per una volta tanto parlare e ridere a voce alta al cinema sarà concesso non solo ma anche auspicabile.